A Gabbiadini, cross nel mezzo la rete, rete, vantaggio Sampdoria, il gol probabilmente è proprio di Manolo Gabbiadini, nessuno ha toccato il pallone sulla traiettoria di Gabbiadini che adesso va ad esultare sotto la gradinata a sud dei tifosi della Samp, 1-0 Sampdoria. Errore di Ghiglione, occhio a Linetti, possibilità per la Sampdoria, si butta dentro Gabbiadini, Gabbiadini, 1-0 Sampdoria, incredibile come cambia la partita al minuto 85 su una sbavatura difensiva nel Genoa, sull'intuizione di Linetti, sul senso del tempo di Gabbiadini che la mette proprio accanto al palo e la Sampdoria è in battaglia. Jancto in mezzo per Linetti che si coordina, rimpallo che premia Gabbiadini, a segno ancora una volta come nel derby d'andata, è 1-1. Terzo gol in carriera contro il Genoa di Manolo Gabbiadini. Torner per i blucerchiati, batte Candreva, palla tagliata, allontana di testa Van Husten, ancora verso Candreva, che può ribadire in mezzo con un nuovo cross, colpo di testa! Il vantaggio della Sampdoria, ancora Manolo Gabbiadini, a segno per la terza gara consecutiva, ma questo è un gol pesantissimo perché porta i blucerchiati avanti 1-0 sul Genoa al settimo minuto. Si va subito al lancio lungo, Caputo insegue il pallone sul lato corto dell'area, cerca di andare a chiuderlo, Vasquez lo punta, Caputo arriva per calciare i Gabbiadini! E sono tre! Genoa a zero, Sampdoria a tre, la Sampdoria avanti 3-0, convalidato dopo il Cech Alvar, il gol di Gabbiadini, che dopo essere stato sostituito può festeggiare la sua doppietta per... Sampdoria è il nostro amore, come è finita, viva la vita, perché è la Samp che ci batte nel cuore, forza Sampdoria!